In Mesa, squadrata, un'astronave da battaglia. Era il 1986 e la Lamborghini lasciava tutti attoniti con la LM002. Oggi ci stupisce ancora di più con la Urus, la SUV più performante del mondo. Interni e sensazioni in puro stile Lamborghini per questa Urus, SUV ovviamente estremo che si freggia del meglio della componentistica meccanica del gruppo Audi Porsche. Addirittura con un motore V8 dedicato che le permette di scendere nel rapporto peso-potenza a 3,46 kg al cavallo. Peso misurato secondo le direttive della Comunità Europea in assetto di prova. Sulla carta quindi il SUV più prestazionale oggi sul mercato. Infatti tutti i componenti necessari per eccellere nelle prestazioni in questa Urus sono applicati. A partire dalle sospensioni promatiche che attraverso il selettore tamburo, nome simpatico per indicare l'integratore dei controlli elettronici, sono regolabili nell'altezza minima da terra da 158 mm a 248 mm. Più la trazione 4x4 permanente con differenziale centrale che permette lo sbilanciamento della coppia ripartita al posteriore del 60%. E inoltre differenziale posteriore attivo che nella nomenclatura Audi è indicato come Sport in grado di moltiplicare la coppia sulla ruota esterna. Barre di torsione attive con attuatore elettromeccanico e quattro ruote sterzanti. Bene, vedremo che in pista tutti questi componenti, dato il peso 2246 kg e il passo 3.003 mm, non solo risulteranno assolutamente eccellenti ma anche necessari. Sicuramente convincente il motore della Urus. L'architettura di base l'abbiamo già vista sui pluricilindri biturbo benzina montati sulle Cayenne. E qui abbiamo l'otto cilindri, quattro litri, ancora più stupefacente perché è più spinto delle altre applicazioni. E allora andiamo subito ai numeri che ci fanno capire la sua competitività. 650 cavalli a 6.000 giri, 850 Nm a 2.250, con una potenza specifica di 162-66 cavalli litro e una PME massima di 26,74. Ed eccola qua l'architettura del motore. Vedete i due turbo centrali di dimensioni ancora maggiorate, con evidenti vantaggi sia per quanto riguarda il turbo lag, perché guardate qui il collettore di scarico come è corto. Vedete dalla valvola di scarico fino alla chiocciola della turbina. Anche i catalizzatori che vengono montati subito dietro sono molto vicini, catalizzatori trivalenti perché è un benzina e quindi molto efficienti. E questa è una delle virtù dei motori termici. Quando si applicano in maniera intelligente i sistemi per migliorare le emissioni, si ritrova anche un incremento delle prestazioni. Di nuovo, comando della distribuzione con catena mossa dalla parte posteriore dell'albero motore, una raffinatezza in più rispetto agli 8 cilindri longitudinali. Guardate questa bielletta. Fa parte della sospensione motore, gli altri 8 cilindri delle altre case non ce l'hanno. E serve appunto a ridurre a zero i traballamenti del motore durante l'accensione e lo spegnimento, durante lo start e stop. E concludiamo con altri parametri caratteristici interessanti nel confronto dei vari motori. Velocità media dello stantuffo a regime di potenza massima 17,2 metri al secondo. Indice di sicura affidabilità. E il prodotto tra la velocità media del pistone e la PME, sempre a regime di potenza massima, 411,74. Valore stratosferico. Proseguendo per la linea della trasmissione, dal motore si passa al cambio, uno ZF automatico, 8 marce, con convertitori di coppia che negli off-road, nei SUV, è ideale per gli spunti. E poi al differenziale centrale. Aiutandoci con uno schema sul mio computer andiamo a vedere dentro come funziona. È un differenziale che realizza la trazione 4x4 permanente per cui non ci sono mai tempi di ritardo. dall'albero secondario del cambio. Vedete che l'albero secondario del cambio muove questi satelliti che a loro volta ingranano, qui ci sono degli ingranaggi, come vedete, a denti dritti, che ingranano o con questo piatto a sua volta, con un ingranaggio frontale, che è collegato all'albero di trasmissione posteriore, oppure con quest'altro piatto, sempre con ingranaggi frontali, che muove l'ingranaggio che poi andrà a muovere l'albero di trazione per il differenziale anteriore. E come funziona? Grazie alla differenza dei raggi, dei punti di ingranamento dei satelliti con i due ingranaggi frontali, si ha una ripartizione 60% di coppia dietro e 40% di coppia davanti. Questo quando le ruote non sono in eslittamento. E quando le ruote vanno in eslittamento, ebbè, questo differenziale centrale si comporta come gli autobloccanti, cioè in maniera automatica e meccanica, va a trasferire la coppia sulla sale con la maggiore aderenza. Grazie allo spostamento in verticale dei satelliti che cominciano a essere accelerati e l'intervento di questi freni. E adesso, continuando la driveline, arriviamo al differenziale posteriore, che è un differenziale attivo, molto prestazionale. Cerchiamo di capire come funziona. Qui vedete il motorino elettrico che manda in pressione l'idraulica, che poi andrà a chiudere gli ingranaggi interni che servono a moltiplicare la coppia. Cerchiamo di capire come. Approfittiamo dello schema di questo computer in modo che possiamo vedere l'interno. Questo è il motorino che esercita la pressione del circuito idraulico, che va a chiudere questi giunti a dischi multipli quando la centralina, che sovrintende la dinamica laterale, capisce che la vettura è in curva non solo, ma è in curva a livelli di accelerazione elevata. E allora che cosa fa? Chiude il giunto a dischi multipli della ruota esterna alla curva, mettiamo che sia alla destra, e quindi attiva questo doppio ingranaggio interno che è un vero e proprio riduttore che moltiplica la coppia. Quindi a differenza dei torque vectoring normali, che spostano solo la coppia sulla ruota esterna alla curva, frenando quella interna, questo invece moltiplica, incrementa la coppia sulla ruota esterna. Molto più prestazionale perché non c'è la perdita di potenza dovuta all'azione frenante, è molto più sensibile nella chiusura della traiettoria in curva. E già che siamo in questa posizione, qui guardiamo un altro elemento che è la prima volta che lo vediamo, la barra di torsione attiva, e di nuovo dobbiamo entrare dentro questo componente per capire come funziona. Ed eccola qua, vedete che l'attuatore questa volta è elettromeccanico, perché ha una risposta più pronta, è più prestazionale come range di rigidezza torsionale, ed è attivato a 48 volt. Altro componente molto importante per la dinamica veicolo, soprattutto quella laterale, lo vediamo qua, la guida elettrica piazzata sul telaio della sospensione posteriore, qui vedete il motorino che ingrana sulla cremagliera, che va a gire sulle leve finto sterzo che poi sterzano le ruote posteriori. Tutto è sotto controllo della centralina elettronica che sovrintende alla dinamica della vettura e riesce a capire quando deve sterzare, in opposizione oppure nello stesso senso delle ruote anteriori. Questo diverso modo di sterzare le ruote posteriori va dietro all'angolo di assetto, che è l'angolo che tutto l'asse longitudinale della vettura fa con la tangente alla curva, che fa sì che per basse velocità la vettura percorra la curva con il muso fuori dalla traiettoria e la coda dentro. Mentre quando comincia a dover bilanciare con la deriva delle ruote posteriori la forza centrifuga, allora percorre la curva con il muso che va verso l'interno e la coda verso l'esterno. A quel punto le ruote devono sterzare nello stesso senso di quella anteriore per ridurre questo angolo di assetto. Significa stabilità. Ne sentiremo l'effetto nei rapidi cambi di direzione in pista, nelle S in particolare, dove grazie alla stabilità aumentata dovremo riuscire a vedere una velocità di percorrenza più alta. Le sospensioni sono della tipologia più prestazionale, infatti vediamo qui dietro un 5 leve con soprattutto molle ad aria ed ammortizzatori a controllo elettronico. Sono le famose sospensioni attive che realizzano il massimo delle prestazioni, sia come comfort e sia come handling. E anche davanti vedete che la tipologia è quella più prestazionale, quadrilatero alto, con asse di sterzo virtuale che riconoscete dagli attacchi divisi delle leve, sia inferiori che superiori. È una tipologia chiaramente sviluppata da Audi e messa a disposizione delle vetture più prestazionali del gruppo. Specifici invece della Urus sono i freni, decisamente prestazionali, perché davanti abbiamo un disco in carboceramica di ben 440 mm di diametro, spessore 40. E soprattutto la pinza freni è una pinza monoblocco in alluminio a ben 10 pistoncini. Dietro ancora dischi carboceramici da 380 mm, sempre spessi 40, con una pinza flottante. I risultati in termini di spazio di frenata, come vedremo, sono incredibili. E di nuovo specifici per la Urus i pneumatici, e questi ovviamente sono pneumatici da pista, sono dei Pirelli P0, 285-40 su cerchi da 22 e dietro ben 325 mm di larghezza, barra 35, sempre su cerchi da 22. Tamburo della Urus in posizione corsa. Sospensioni di livello eccellente, molle ad aria, ammortizzatori a controllo elettronico. Differenziali centrali con ripartizione sbilanciata sul posteriore e soprattutto dietro, differenziale attivo che incrementa la coppia sulla ruota esterna alla curva. Barra antirolio attiva e 4 ruote sterzanti. Ci sono tutti gli ingredienti per avere qui a Vairano una velocità maggiore di tutte le sue concorrenti. Per esempio qua nel punto 4, all'ingresso di questo curvone, ci sono 20 km all'ora in più rispetto alla sua concorrente diretta che però non aveva le quattro ruote sterzanti. E direi che sono proprio le quattro ruote sterzanti che riducendo l'angolo di assetto e dando maggiore stabilità riescono a favorire un incremento di temperatura. Soprattutto nei doppi cambi di direzione veloci come questo, la stabilità permette di incrementare la velocità. C'è un solo punto in tutto questo panorama estremamente positivo, meno efficace dei differenziali centrali di ultimissima innovazione come per esempio quello della Stelvio che in ingresso curva riducono la percentuale di coppia all'anteriore a zero e quindi garantiscono allo sterzo una maggiore direzionalità. La prima soddisfazione sull'off-road con questa Urus è qui nel twist che d'altra parte è un ostacolo importante da verificare perché quando si va fuori si può trovare con grande facilità. Ed ecco che qui cominciamo, la pendenza come vedete è notevole ma nessun problema di trazione e nemmeno nessun problema di interferenza con il fondo data l'altezza minima da terra regolata nella posizione massima su 248 mm. Anche l'atterraggio perfetto. Secondo tracciato impegnativo la salita fino lassù in punta sempre con il tamburo su terra in questo primo tratto possiamo nonostante le ruote da pista prendere un po' di velocità qui freno perché c'è una bella cunetta e poi qui la pendenza è notevole ma andiamo su di slancio e guardate qua che buco incredibile ma va su benissimo quasi come un off-road velo e adesso scendiamo in questa discesa dal 70% e poi la rifaremo in salita ok tamburo sempre in terra come vedete 70% e proviamo le capacità di arrampicamento grazie al differenziale centrale che distribuisce la coppia in modo da evitare lo slittamento di qualsiasi ruota ed ecco che siamo arrivati con grande facilità su in cima adesso proviamo a scendere qui abbiamo un enorme buco ma nessun problema data l'altezza della terra qui pendenza incredibile ma si può affrontare con la massima sicurezza dosso e anche questa prova è superata in maniera eccellente adesso tamburo nella posizione sabbia e questa detta della Lamborghini è la posizione ideale per il piacere di guida sulla bassa aderenza con questa Urus probabilmente c'è una prevalenza forte di trazione al posteriore qui ricordo che abbiamo i peromatici da pista per cui su queste pietre bisogna andare abbastanza cauti però vedete che si riescono a fare accelerazioni su terra incredibili e anche controllo della dinamica laterale in curva niente male avete visto le capacità di riallineamento su fondi a bassa aderenza io che l'ho provata anche sul ghiaccio vi posso garantire che sul ghiaccio è eccezionale non è che abbia voluto parcheggiare in questo modo così contrastante con la predisposizione della Urus alla guida in pista ma è per dimostrarvi ancora una volta le capacità della Urus sulla terra non vi dico poi sulla sabbia e in effetti guidare sulla sabbia sulla sabbia liscia dove non ci sia pericolo per le pietre di rompere queste gomme con rapporto di altezza così basso ebbè è una delle sue specialità maggiori comunque concludendo abbiamo visto insieme che le velocità soprattutto in pista nei tratti con cambiamenti di direzione repentini cioè nelle curve che si susseguono nelle S ebbè lì le velocità sono veramente notevoli superiori a qualsiasi altro SUV ma non di poco abbiamo visto anche 20-30 km all'ora in più rispetto alle altre grande capacità di prestazioni su pista come grande capacità di frenata se guardate i dati del centro prova lo capite subito dallo spazio del resto da 100 km a 0 36,5 notevolissima allora conclusioni vi sembra un SUV prestazionale beh direi proprio di sì e la dimostrazione poi è che anche in questi percorsi fuori strada difficilmente c'è qualcosa che la fermi che la side è il momento che la fermi che la fermo è light che la fermi la fermi è l'anima che la fermi Grazie.